siamo con valerio conti autore del gol partita per la vittoria del torrino sul villadriana ciao come ti senti al termine di questo match deciso proprio da un tuo volo sul finale sono molto contento anche perché non arrivava tanto il gol sono tornato da un infortunio ma colto suo gruppo e sono contento di ringraziarlo così perfetto questo è il quinto risultato utile consecutivo per voi vorrei chiederti se credete ancora che la salvezza diretta possa essere un obiettivo raggiungibile da questa squadra da questo gruppo ma diciamo che in settimana ce le ne ho molto bene e quindi penso che c'è sempre da lavorare però se continuiamo così la strada giusta perfetto ringraziamo valerio conti a te